Musica E ragazzi mi dispiace aprire una missione così ma ne abbiamo fatte due nell'episodio precedente quindi dobbiamo per forza smistare di più la cosa Qua bene o male abbiamo una sincronizzazione totale abbastanza onesta non perdere più dieci di quadri di salute penso che sia una cosa che possiamo abbastanza fare in maniera facile è stata vedere adesso che l'ho detto succederà il casino Localizza Lucrezia ai piani superiori del castello è vero che c'è anche una nuova arma questo ascione qua il che potrebbe essere una buona occasione per metterlo in atto Allora abbiamo visto nel capitolo precedente episodio precedente chiamatelo come volete i giardinetti che sono qua sopra i giardinetti interni di Castel Sant'Angelo quindi si deve passare qua per forza Parlo al cielo ti prego sussurralo solo a te stesso se Cesare lo scoprisse Dio sa cosa potrebbe fare non siete appena rimasta vedova lui ha ucciso mio marito Cesare è sempre stato geloso delle mie attenzioni ma questo non deve fermarci a no manterrò il nostro segreto Lucrezia le vostre labbra mi bramano Guarda mi fa una cosa ma ovvero questa Cosa è stato? Sono in ritardo per le prove addio cuor mio No che puttana che è Ho ascoltato l'intera conversazione mia signora e farò da garante Bene dillo a Cesare vedremo come starà con un piede nella scarpa sbagliata Sì mia signora Mamma non mamma col fiorellino capito? Ah eccoci qua Vi prego proseguite non intendevo interrompervi Ezio auditore da Firenze Adesso da Roma Vedervi finalmente in carne e ossa Peccato che Cesare non sia più qui sarebbe piaciuto anche a lui Non ho nulla contro di voi Lucrezia liberate Caterina e me ne andrò Impossibile Allora non mi lasciate altra scelta Guardie Ma ma Perché sono dei coglioni Boom Vabbè questo bestione qua è una cosa assurda Non posso lasciarvi qui a combinare guai Verrete con me Se urlerete Sarò costretto a tagliarvi la lingua Ora liberate le principesse dai castelli Devo andare di qua per forza Scommetto che vi sentite potente Ad ammazzare chiunque vogliate Lo vedo Presto Boom Ecco è andato dalla parte sbagliata Quest'arma non è molto veloce Ma quando colpisce i ragazzi non ce n'è per nessuno Ostaggio dove vai Ma dove vai Ma dove vai Sapete che ne è stato dei pazzi al termine della vostra caccia Il vostro caro amico Lorenzo Li ha privati di tutto e gettati in galera Anche quelli che non c'entravano con la cospirazione E non li abbiamo ammazzati tutti poi no? Lo ricordate? Tutto il viaggio di Assassin's Creed 2 Ho detto che non è stato proibito di sposarsi Le tombe di famiglia furono distrutte E vennero cancellati dai libri di storia Puff In un soffio Ma se non soffia Anche antipatica Nessuna pietà per te Forza presto E la paghi così Che bello potersi difendere dalle armi lunghe Ma dove cazzo vuoi andare Dove cazzo vuoi andare Comunque questa è una delle missioni più belle del gioco E' subito dopo nascosto la mano Eccolo Eccolo laggiù Addosso Oddio che palle Mi tocca andare a pigliare dove Sta troia Finirà ciò che è iniziato E porterà la pace in Italia A differenza vostra Lui uccide per un fine più alto Quale? Esattamente L'ignoranza rende bersagli facili Come volete Sto solo sprecando piatto Siete un... Bravo cioè Ti liberi Mi viene addosso Ok Sta poveraccia Tipo Lucrezia Borgia Che sta Eh no Lucrezia Borgia Catrina Sforza Che sta combattendo Oh Sapete che non ricordo dove sia Di qua forse Non è di qua Aiuto Ta stronza Era di qua Ok Non mi torna Infatti non capivo Adesso ho capito Dai questa era la sincronizzazione totale Più facile di tutte Oh ma Vuoi venire con me o no? In tutti i sensi Perché Troia con me Non penso si farebbe Nessun problema Ecco Salute Lucrezia Mi sei mancata Vai a farti fottere Puttana È sempre un piacere Portala qui Prendo io la chiave Che? Le tette Guardie! Guardie! Ora stampa No! Vuoi camminare? No Dovremmo uscire dalla porta principale Un pesante fardello Non farti indiv... Oddio no! Ti pareva che te la mettevano difficile no? Dopo avertela messa a faccia Te la mettono difficile giustamente Aspetta qui Come se avessi scelta E quello là Mi si fa così Vai Ezzio che stai Perché mi aiuti Ezzio? Forlì è perduto Non posso esserti Ma chi se ne frega di Forlì? Boom Però mi servono dei proiettili Mi servono Se no non so come fare Ditemi che ne avete qualcuno Per favore Niente Tutti i pugnali da lancio Ci hanno Nessuno Di loro Ha Il Ha Un proiettile Hai una famiglia Non è la tua però Merda Quella notte alla villa Ho dovuto rinsaldare La nostra alleanza Per proteggere Forlì Lo capisci Vero Azzio Via Veniamo fottuti Ma dove? Forse sono stanco Bravo Hai capito Sfida delle cortigiane Sfida delle cortigiane Sassino nelle spalle Ok Continua Il nostro Continua un cazzo Lo sapevo Non devi aggiungere altro Via Cioè ma Non vede lei Per cercare me Fuori Un altro Datemi un proiettile Vi prego Veleno Proiettile Nulla Sì Due proiettili Grande Ti stimo Rimpiango Di averti ucciso Da quanto gentile sei No Non devi prendere in braccio Lui Ezio Vabbè Allora Fai come cazzo Ti pare Così Di qua dove si va? Da nessuna parte Forse Di qua Sì invece Boh Tanto la strada è libera Quindi Bene o male Riusciamo Aggiustercela Ma Caterina sta morendo Me ne ero mica accorto Caterina Ti hanno Insomma Cesare Ti ha No Il mio nome Vanno ancora qualcosa Non sono stata Violata Certo lanciala Tanto Già mezza morta Figlio di puttana Non osare farlo mai più Qua sicuramente c'è qualcuno Fermo che? Ma fermo te Ok credo che siano le guardie Con le armi lunghe Ad avere I proiettili Ok Fino qua La posso portare Pare si possa aprire Dall'aggiù Ok Adesso però C'è un problema Che sicuramente Possono individuarmi Qua Quindi torna al tuo bersaglio Ok Allora Con lui si fa così Buono Ci torna al mio bersaglio Tranquillo Tranquillo No No Questo Io lo chiamo culo Questo Lo chiamo palesemente culo Era un metro da me Yes Yes signori Presto Supera il ponte Io ti coprirò Yes